cari amici buongiorno siamo al giorno della verità ebbene sì questa sera all'ora 21 e 15 in diretta su da zone e da zone one e in chiaro su rai 2 rai 2 hd avremo la sfida di ritorno la finalissima playoff per accedere in serie a tra spezia e frosinone però andiamo a vedere il cammino fatto da queste due squadre in questi playoff credo forse per miglior spiazzamento lo spezia ha giocato dalle semifinali mentre il frosinone ha dovuto fare il quarto di finale contro il cittadella ha vinto per 3 a 2 nelle semifinali spezia chievo 0 2 3 a 1 frosinone pordenone 0 1 2 a 0 e spezia frosinone andata giocata in terra di ciociaria vittoria degli spezzini per 1 a 0 quindi questa sera vedremo se i ciociari avranno la forza la grinda l'agonismo giusto per ritornare dopo non molto tempo in serie a tra i massimi professionisti o lo spezia si prenderà una gioia direi una bella gioia ripeto io anche la mia giovane età non mi ricordo di uno spesso in serie a non so se c'è stato mai comunque ditemi voi nel caso comunque auguriamoci di vedere una bella partita ricordo in chiaro si può vedere su rai 2 rai 2 rai 2 hd a partire dalle ore 21 15 il calcio di fisco di inizio e poi ovviamente dopo questa sera domani si aprirà lo slot finalissime di europa league e poi champions league ovviamente domani con inter civilia arriverà il video domani sulla partita e domenica la finalissima di champions tra bayern monaco fresca vincitrice per un 3 a 0 secco contro il leone nella semifinale contro il parisa germain che abbattuto il lipse quindi spezia o frosinone ritorno in serie a del frosinone o sorpresa spezia staremo a vedere quindi l'arda sendenza stasera vedremo la partita e poi capiremo no il chi andrà in benevento di super pippo in zaghi grazie a tutta la prossima ciao